Adam! 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 Lasciate spazio a Luis Alberto di pensare, bravi così, lasciategli tutto lo spazio, ottimo. Ottimo, anche Felipe Anderson, non uscite, non uscite, nessuno deve uscire su nessuno, anche quando si, via, lascialo andare. Bene, poi fagli mettere questa palla in mezzo, ottimo. Marusic, perfetto raga, copione ottimo, ottimo raga, gestita alla grande questa azione difensiva da manuale, bravi raga. Finalmente, oh, il culmine della partita, ci abbiamo provato tutta, tutti i 90 minuti, al fine, fino alla fine, il nostro motto ce l'abbiamo fatta. Speriamo che non vada a finire male. Gendussi, 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 la cosa è in aria, la di testa colte, ragazzi. L'anzio è in vantaggio, ragazzi, mi vergogno, mi vergogno, mi vergogno, lo dovete cacciare, quest'uomo lo dovete cacciare, mi vergogno. Allora, mette in mezzo la sessione! Infanimento di testa, un gol di Marusic, si va a vantaggio alla scuola di Anto Salotto, all'ultimo secondo, senza giustizia del colso! L'anzio è in vantaggio alla scuola di Anto Salotto, non ha fatto il corso di Anto Salotto. Bello! Oddio! Anche la! Anche la! Maricic! Non mi sento! Non mi sento! Non mi sento! Al novantatresimo! Maricic! Per l'ennesima volta. O ce la prendiamo a culo la partita o ce la mettono nel culo. Ce l'hanno messa nel culo. Bravo Allegri. Una squadra senza senso. Senza né anima e né corpo. GOOOOOOL! BOOOOOOL! GOOOOOOL! AAAAAA! 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 BOOOOOOOR! AAAAAA! 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 ahhhh oh gollo con di Marusic 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 ha segnato Lazio ha segnato Marusic ha segnato Marusic minni e se lo merita se lo merita se lo merita proprio come Dybala segnò sotto la Sud per farci vincere lo Scudetto e a Napoli soffrirono tanto no 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 oh no signific كان per farlo dentro dentro il gol! gol di Maruzic! Ecco il gol! 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 Io lo sapevo! Perché è normale! Mi sembra giusto! Meritato! Perché è meritato! Perché siamo una banda di merda! Una squadra di merda! Siamo una squadra di merda come al solito! Mamma mia ragazzi! Incredibile! Manusic che la mette dentro! Purtroppo negli ultimi istanti di partita! E' veramente allucinante perdere la partita al novantatresimo dove comunque era nell'aria! Cioè ragazzi è inutile! Rohm... Dio, 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 dio! Cua في! ÈN. Mᵉ! Eh, mi담! bisogna crederci fino alla fine bisogna crederci fino alla fine non ci voglio credere ho detto ora se lo prendiamo adesso guarda che merda guarda al 93esimo come dei coglioni come è giusto così è giusto così una partita di merda senza gioco e senza idee è giusto è giusto magari ci svegliamo in coppa italia settimana prossima maruzic il colpo di testa che porta il vantaggio alla lazio e fa esplodere lo stadio olimpico di nuova ecco ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua il gol all'ultimo secondo era la fino alla fine tutto al contrario cosa dobbiamo dire cosa dobbiamo dire è meritato cosa dobbiamo dire se non che è meritato e ce lo meritiamo e ce lo meritiamo non ci credo non ci credo non ci credo guardate non mi parlate più di calcio per piacere non mi parlate più che ci sta come un vestito nuovo ci sta come un vestito nuovo ci sta come un vestito nuovo ho piacere sono contento perché questo non è il modo di giocare a calcio questo non è il modo ti devi vergognare di giocare a calcio così per lo stacco il gol dell'1 a 0 a tempo scaduto ha segnato maruzic che ho in panchina ha segnato maruzic che ho in panchina in panchina 49 partite ti ho fatto fare maruzic e ti ho messo quando nessuno credeva in te oggi è il gol maruzic cacciatelo 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 basta non c'è più niente da dire cacciatelo 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 basta 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 basta